2 settembre e continua l'ultimo giro in kayak dell'estate 2019 siamo arrivati all'ultimo video di questo giro che riguarderà il tratto oltre il trave con alcune riprese anche alle meduse che qui saranno abbondanti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo sia nei giri in kayak sia in quelli in bici oltre ovviamente a tutta l'attrezzatura per effettuare le riprese video guardate bene questa costruzione del trave perché non la vedrete più ve lo dico adesso è stata buttata giù demolita per motivi di sicurezza ovviamente ma al di là di queste indiscrezioni anticipazioni andiamo a goderci il trave nella sua bellezza naturale a l'attrezzatura per la sua un video selfie non può certo mancare anche perché questo lato del trave è molto molto bello e qui incominciamo a vedere due meduse ma ce ne saranno molte di più un video selfie in questo punto che secondo me è veramente splendido quella specie di fessure nella roccia è straordinaria a e qui incominciamo a vedere che l'acqua che sembra strana e forse un po torbida in realtà non lo è lo capiremo più avanti sono i piccoli delle meduse altro video selfie anche in questo punto spettacolare con quel pezzo di montagna che qualche anno è venuto giù e si è piazzato in modo imperioso nel mare oggi il mare è davvero una tavola e ci possiamo permettere la navigazione vicino a riva anche in questo tratto di costa dove normalmente è meglio stare un po più all'aria ed ecco qua che ora vediamo meglio i piccoli delle meduse tanti tanti tantissimi un'infinità tutta questa robina bianca sono i piccoli delle meduse cassiopea proseguiamo la navigazione e vediamo che continuano esserci tantissimi piccoli di medusa sulla superficie dell'acqua del mare ecco una cassiopea adulta e vicino vediamo anche un po' di piccoli e ci ritroviamo a navigare sulle meduse sui piccoli di cassiopea che sono una marea che sono una marea Mentre lì davanti e sulla sinistra vediamo i miei amici gabbiani e anche i cormorani e come sempre i cormorani si tuffano in mare e si immergono a 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 Giriamo e torniamo indietro e vediamo, vedremo più che altro, ancora le meduse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E facciamoci ancora un altro tuffo tra le meduse. Grazie a tutti. Abbiamo forse avuto un'idea più chiara di quante siano le meduse, o meglio, i cuccioli di Cassiopea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' tutte queste chiazze gelatinose sono altre concentrazioni di cuccioli di Cassiopea, ancora più piccoli di quelli che abbiamo visto prima. Andiamo a vedere anche una Cassiopea adulta. Ce ne sono di questo, ce ne sono di vari generi, i giri in kayak dell'estate 2019 sono finiti. Ciao, ciao alla prossima!